Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Sekiro. Siamo al Monte Kogo nell'area del Tempio perché dobbiamo fare delle cose. Qui c'è l'acqua se non sbaglio, esatto qua, e volevo vedere se c'era effettivamente qualcosa da toffarsi. Un attimo, giù, un attimo ho un po' di mal di gola, e effettivamente qualcosa c'è. Vediamo. Testo sacro, posseduti, un libro sacro sull'illuminazione, con l'iscrizione per la facciulla celeste del registro. Per un'area, per un'era, sono stato benedetto dal verme, o c'è un verme solitario, sono stato molto magro. L'immortalità mi permette di percorrere la via per l'illuminazione, non c'è più parlare. E devo raggiungere l'illuminazione per comprendere l'immortalità. Si dice che il drago divino sia venuto da Occidente, quindi mi chiedo, come mai mi è stato concesso di verme? Sarà un verme solitario, si è fatto una gita, ha trovato un culo, e andiamo pure avanti, vediamo un po' cosa succede. Andiamo di qua, vediamo cosa c'è. Un cazzo. Oh, porca vacca. Però, niente malo. Ok, ritorniamo pure a casa. E vediamo un po' cosa fare. Bene. Di senza testa... Non mi ricordo se ne manchi uno oppure no. Perché noi di confetti ne abbiamo quattro, non so se ce ne sono cinque. Boh, va a capi chi lo sa. Andiamo a viaggiare, evitando le buche più dure. Non mi ricordo dove... Andiamo dal tipo del... Sì. Ok. Vediamo un po'. Se è qua, perché io non me lo ricordo. Ok. Perfetto. Opla. Grande così. Oh, porca vacca. Chi è? Sono lui. Va a prendere un cazzo di colpo. E poi... Non è durato tanto. Mi dispiace. Il signore si è fatto malo. Mi metto un attimo qua che guardo la guida. Perché voglio vedere se effettivamente c'è qualcosa che dobbiamo prendere. E quindi... Ah, dopo. Beh, effettivamente devo andare solo a prendere dalla carpa. Tipo... Allora, andiamo un attimo. Oh, porca vacca. Devo scattavetrato proprio. Allora, dovrebbe essere di qua. Andiamo un po'. Andiamo un pochino. C'è boia. Che bella coscia. Ehi tu. Non è che per caso. Mi hai portato delle scaglie. Se ne hai, ti ricompenserò profumatamente. Ok. Va bene. Perfetto. Sì, ho capito che ho esaurito. E la maschera. Ok, vi ho preso tutto. Non c'è nient'altro. Perfetto. Ascolta, io voglio diventare una carpa. Bene. Una carpa gigante. Che continuerà a crescere e vivrà una vita molto lunga. Una carpa che non invecchia mai. Ascoli, Uru. Ok. Ti ringrazio per la gentilezza. Portami presto al Tre Scaglie. Eh, ma io ce le ho, ma non c'è niente te. Vabbè. No. Ok. E questa è fatta poi. Ok, adesso andiamo all'ultimo idolo. Sempre airata. Andiamo al terzo. Perché c'è un altro posto. C'è il ponte che dobbiamo vedere di attraversare. L'acqua. Se c'è qualcosa, se non mi ricordo. Ci guardo, l'altro so che c'è. E siamo a posto. Allora. No, riposo. Eh, se non dico l'unito, lo so. Le sciacche, le sapete, le sciacche. Gli tirati, il terzo è qua. Ok. E vediamo dove è andato. Quando andò alla guida. Piano piano. Facciamo tutto. Allora. Andiamo di qua. Vi dovevo vedere perché comunque siamo messi bene in stealth. Comunque per sicurezza. Vai. E dovremmo essere a posto. Perfetto. Andiamo di qua. Fatemi dire se c'è qualcosa. Non dovrebbe, però. Infatti non c'è niente. Ok, andiamo. Oh, cazzo. Oh, eh. Aspettate. Non lo vedo. Eh, salve. C'è boia. Ecco. Eh, porca vacca. Locali. E niente. Ok. Questa è andata. Poi. Apri. Andiamo un po'. Perfetto. Adesso non c'è un cazzo. Quindi guarda la guida vi dico. Ok, adesso torniamo indietro. E andiamo nell'altro laghetto più avanti. Così a meno. Doveve esserci una altra carpa, una altra scaglia. Vi faccio vedere tutte le scaglie. Tutte le carpe. Tutto quanto. Andiamo un po'. Perfetto. Vai. Chi è? Ok, non lo so. Allora, dovrebbe essere da queste parti. Però bisogna stare anche attenti. Perché tendono a scappare. Ed è un casino. Peno che non le avrebbe già prese. Cosa? Possibile? Comunque ce n'è una qua. Ok, eccola. Ok, presa. A posto. Ok, adesso dobbiamo andare a attivare un attimo un santuario. Un idolo. Dove abbiamo ucciso la falena. Poi ci trasportiamo. Adesso. Cerco di far tutto. Seguo una guida, così o meno c'è qualcosa. La faccio bene. Viaggia. Tenuta di grata. Questa. Ok. Dove essere un santuario. Non ne sono sicuro. Mi sembra che sia per attivare un boss opzionale. Ma non ne sono sicuro. Comunque lo vedremo sicuramente insieme. Ascoltate. Senza un seme della percetà ho cercato di proteggerla. La stirpe degli Irata finisce qua. Io non volevo parlare con lui, volevo prendere questo. Ok. A posto. Andiamo pure. E qui c'è il santuario. A posto. Ecco qua. Ottimo. Viaggiamo. Andiamo nei direttori di Ascina. Dovremmo andare qua circa. Esatto. Io l'ho già preso. Nel gameplay vi ho fatto vedere. Però nel caso voi non l'avete fatto al tempo. Qui c'è da ammazzare un tipo che ci dà una pergamena. E qui. Ok. Se si ammazza lui ci dà una pergamena. Ma noi avevamo già fatto al tempo. Quindi adesso andiamo dal venditore di Ascina. Il nostro caro amico. Se non lo trovo. Dovebbe essere qua. Ok. Così siamo a posto. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Così almeno siamo a posto. Adesso non so. Sono 555 vedete però. Salve. Grazie per esserti servito da me. Brav'uomo. Su. Compra qualcosa. E che cazzo compro che non c'è niente. A parte questo che ne ho 99. Che cazzo compro. Dopo le 31. Questi qua ne ho 8 pochissimi. Dopo tu non li hai. E questi 38 non ho un cazzo di niente. Che cazzo compro? Porca la vacca. E i compiti di acqua non mi interessano. Comunque noi intanto abbiamo. Mi sono ricordo adesso. La prossima volta. Torna presto. Che abbiamo da Emma. Perché abbiamo un seme. Lei adora i semi. Ci riempie di... Sì. Andiamo da lei. Così almeno lo facciamo. Ok. Viaggia. Qua sì. E per la signorina. Boh. Chissà come ci dà il riso. Ah. Devo andare anche da curo. Io dargli il coso. Il... Quello che ci ha dato la... La fila dei fiori. Là. Come si chiama? Salve. Sono felice che tu sia qui. Mastro lupo. A quanto pare la tua espressione... Niente. Questo è sempre... È sempre quello che dice. Dai semi di zucca. Ok. Io ho... Arrivederci signorina. Andiamo a disposare. E qua adesso abbiamo... Nove. Boh. Che cosa meravigliosa. Ok. Adesso diamo... La scina sa che a lei. Sono felice. Caffè di ascina. Ho portato del sake. Oh. Molto generoso da parte tua. Accetto. Delizioso. Da cerusico. So che il sake non si usa solo come bevanda. Serve a purificare? Sì. E può anche aiutare chi ha una bassa tolleranza al dolore. Ma quando ero piccola... Non riuscivo a sopportarne l'odore. Pratichi la medicina... Sin da quando eri una bambina. Sì. Volevo essere utile al mio mentore. Mastro Dogen. Con gli altri discepoli. Facevamo a gara a chi curava più pazienti. A quei tempi... Le ferite da freccia e da spada erano assai comuni. Capisco. Che problema c'è? Non è niente. A volte venivano anche gli shinobi a farsi curare. Una volta arrivò un paziente piuttosto difficile. Perché è difficile? Parlava pochissimo. Non sapevo quali sintomi accusasse. Quanto dolore provasse. Non avevo informazioni. Un vero rompicapo. Capisco. Questa storia non ti suona familiare. Cosa? No, non è niente. Niente di niente. Ma... Ok, diamogli anche il sake scadente. Ecco. Per te. Ma questo è... Il sake preferito di Lordi Shin. Ne prendo un po'. Delizioso. Ti prego. Dimmi qualcosa. C'è qualcosa che vorrei chiederti. Ma certo. Chi ti ha allenato a combattere con la spada? La spada? Io sono un cerusico. Sì, ma chi? Lordi Shin. Sono... Solo una dilettante. Le tue abilità non sono certo quelle di una dilettante. Perché hai imparato? Beh... Non per uccidere le persone. Cosa vuoi dire? Non ho il minimo desiderio di uccidere esseri umani. Però... Vorrei uccidere un demone. Se mai ne vedessi uno. Un demone? Non prendermi sul serio. Era solo uno scherzo. Ok. E diamone anche il sake della fonte del drago. Prendi del sake. Oh. È fonte di drago. Ne berrò un po'. Ma è abbriaca fratrice. Cielo. Qualcosa non va? Niente. È solo che ogni volta che Lordi Shin aveva un po' di fonte di drago, tutti si radunavano al castello a Shina e davano vita a una festa davvero turbolenta. Ogni volta che succedeva, io lasciavo Lordi Dogen da solo e mi dirigevo sul retro del castello. Dietro il castello? Perché? Beh, andavo alla spirale della sorgente. Che cos'è? Se guardi in direzione della sorgente, vedrai in lontananza una grande spirale di nuvole. Grandi fulmini saettavano da un nembo all'altro. Ed era proprio lì che Mastro Genichiro faceva pratica con la spada, mentre scrutava quei fulmini tra le nubi. Ah, ecco dove ho imparato a fare lo strutto. Ok, adesso andiamo da Lord Kuro. Oddio. Adesso mi ha detto prima che Franzi era la nostra amica, andiamo da lui e si salve. Lupo, sei tornato? No. Sì. Ho qualcosa per voi, Lord Kuro. Qualcosa per me? Ecco qui. Questo è... riso? Sì. La fanciulla celeste del Tempio Sempò mi ha detto di darvelo. Davvero? Allora gliene sono grato. Si direbbe riso buono. Ogni chicco luccica. Quando lo si morde, ha un sapore dolce. Morde? Lupo, il riso è molto più buono cotto. Mio sire. Mmm. Dunque, ti piacciono i dolci? Mangio qualsiasi cosa. Quindi non ti dispiacciono i dolci. Bene, ti preparerò qualcosa di buono. Qualcosa di buono? Pazienta. Aspetta e vedrai. Ok. E quindi adesso andiamo a recettare a vedere se ce l'ho dato qualcosa di buono. Sono curioso, scusate. Andiamo. Riposa. Scusa se ti ho fatto aspettare, lupo. Bene, ora tendi la mano. Mio sire. Il dolce è fatto da curo con il riso della fanciulla celeste. A caso, quindi gliel'ha ridato lui. Conferisce un graduale recupero medio dell'abitalità e recupero costante della postura. Quando lupo aveva fame, suo padre ne diede uno senza proferire parola. Era una delizia incredibile. Forse questa sarà altrettanto gustosa. Che cosa... Mochi alla zucchi. Gli ho preparati con il riso della fanciulla celeste. Mangia, non fare complimenti. Ok. Mi vengo colpo. Molto buono. Decisamente. Decisamente. E cosa è successo? Ho un buff. Non mi dice cosa, però. Ok, adesso ho ancora da parlare. Come era il Mochi? Era delizioso. Ci scommetto. Mi è sempre piaciuto preparare dolci. Fin da bambino. Mi intrufolavo sempre nelle cucine, nella tenuta irata. Forse un giorno, se avrò l'occasione, aprirò una casa da te. Fin da bambino? Perché adesso è un uomo di... vecchio, insomma, stanco, insomma, poca vacca. Sire, ho trovato il fiore per il sentore della sorgente. Ah, sì? Sbocciava davvero nella forra? Sì, nella parte più profonda. Quindi è lì che si raccoglievano le profonde acque della sorgente. Sei stato bravo a trovarlo, lupo. Ah, a proposito. Ho trovato qualcosa. Ho scoperto un altro profumo che dobbiamo procurarci. Quale sarebbe? Il sangue dell'erede divino del retaggio del drago. In altre parole, il mio sangue. Il vostro sangue. Ma Sire... Voi non sanguinate. Sì, è vero. Chi appartiene al retaggio del drago non sanguina. Ma nelle stanze di Lord Genichiro ho trovato uno strano diario appartenuto al paggio di Lord Takeru. A quanto pare, c'è un modo per farmi sanguinare. Per il momento ti chiedo di conservare questo per me. Diario della Maiko di Takeru. Una pagina di un vecchio diario scritto dalla Maiko di Takeru. Mi sono i papini a traligo dati in pensione. Lord Takeru ha messo il braccio sull'incensire e ha provato a tagliarlo con la spada. Ma incredibilmente la sua ferita si è guarita all'istante. E non una goccia di sangue è stata versata. Editha Moe ha detto Senza quella il tuo sangue non può essere versato. Ora dobbiamo solo capire come farmi sanguinare. Forse dovremmo chiedere all'E.D.M. Come Cerusico senz'altro conosce bene il corpo umano. Sì, forse è in grado di aiutarci. Va bene. E quindi dobbiamo andare all'E.D.M. Mamma mia che palla. Ok. C'è una cosa che vorrei chiedere. Sì, di cosa si tratta? È possibile far sanguinare l'erede divino? E perché mai vorresti farlo? Il sangue dell'erede divino è necessario per ottenere le lacrime di drago dal regno celeste ed eseguire la recisione immortale. Oh, capisco. È vero. Non esiste un modo normale per versare il sangue dell'erede divino. Ma tu possiedi lo strumento necessario. La lama mortale. Sì, eccoti qua. Nota. Recisione immortale. Parte del libro della recisione immortale, lasciato da Takeru, con la lama mortale in mano il mio sangue sarà versato. Con il mio sangue il sentore sarà completato. Completo. Il regno celeste arriverà. La recisione immortale sarà portata di mano. Devo chiedere a Tomoe di aiutarmi con la decapitazione. Oh, c'è boia! Questo l'ha scritto Lord Takeru. Proprio così. Con la lama mortale potrai ferire l'erede divino e versare il suo sangue. Capisco. Con questo siamo un passo più vicini alla recisione immortale. lo riferirò al mio, Sire. Certamente. E dobbiamo andare di nuovo da lui. Andiamo di nuovo da lui. Lupo, hai parlato con Lady Emma? Sì. E allora? Che cosa ha detto? Che è possibile con la lama mortale. Capisco. Quindi la lama mortale può versare il mio sangue? Sì, Sire. Vogliamo provare? La lama mortale non dovrebbe mai essere sfoderata. Non c'è modo di sapere che effetto avrebbe su di voi. Bruciare l'incenso potrebbe proteggervi da ogni rischio. Sì. Se insisti, allora così faremo. Ok. Va bene. Adesso dobbiamo recarsi dalla signorina del tè, del riso. Ecco qua. Andiamo a vedere cosa ci dice. Ah, ma siamo alle battute finali con queste quest. Ti ho dato il riso da dare all'erede di vino? Sì. Ne ha fatto degli unigiri. L'erede di vino del retaggio del drago? Le ha fatti lui? Sì. Ne è rimasto entusiasta. Ne ho mangiato uno. Era... squisito. Ottima notizia. Oh, capisco. Sarà anche l'erede di vino del retaggio del drago, ma... è pur sempre umano. Cosa dico? Certo che lo è. Sono sicura che avrà avuto i suoi dubbi sulla rinuncia all'immortalità. Ciononostante, è la via che ha scelto. Vorrei chiederti una cosa. Shinobi dell'erede di vino. Sì. Come si chiama? Lord Kuro. Lord Kuro. Mi suona bene. Spero di incontrarlo. Un giorno. Eh, cioè, sempre io devo andare a chiedere cose. Ok, adesso dobbiamo parlare ancora con lei. Shinobi dell'erede di vino. Sei il benvenuto qui. Consegna capitolo sacro. Ho seduto. Sono per voi. Di cosa si tratta? Ho trovato una nota che diceva di darlo a voi. Grazie. L'accetto volentieri. Qualcosa non va? L'uomo a cui apparteneva. Non riesco proprio a perdonarlo. Oh, cazzo. Ok. Chiediamo del vino. Ti chiedo scusa. Il riso te ne darò dell'altro. Sì, sì, ciao. È stato un piacere. Arrivederci, Shinobi dell'erede di vino. Che il raccolto ti sia abbondante ovunque ti porti il tuo viaggio. Sì. Allora, facciamo un reset. Posa. Perfetto. Adesso andiamo qua. Ok. E ci siamo. Dobbiamo parlare col tipo qua. Perché sei tornato? Dato che non hai missioni da compiere qui. Ti chiedo di andartene in silenzio. Va fanculo. Vabbè. me ne vado in silenzio. Andiamo pure. Oh. Non voglio perderli. Chi? Ma se dovessi scegliere la via della restituzione del retaggio del drago forse sarei costretta ad abbandonarvi tutti. Grazie per queste belle parole. Amici, ascoltate. È gentile, in realtà. Mi ha dato questo. Eila? Shinobi dell'erede divino. Non ti avevo sentito. Grazie a te ho potuto intrattenere una profonda conversazione con i miei amici. Con i bambini delle acque del ristoro? Sì. C'è una cosa di cui vorrei discutere. Io credo che non dovremmo recidere il retaggio del drago. bensì rimetterlo al suo giusto posto. Il luogo a cui appartiene. Proprio così. Il retaggio del drago è stato liberato dalle sue terre ed è arrivato qui in Giappone. Il suo potere non era destinato a queste terre finché non sarà fatto qualcosa. Esso continuerà a corrompere le vite di coloro che incontra. Il retaggio del drago e coloro che gli sono legati è solo giusto che tornino a casa a Ovest al luogo di nascita del drago divino. Però c'è un problema. Non conosco la destinazione esatta. Chi ne ha conoscenze? Forse il sommo sacerdote del tempio Senpò oppure E chi sarebbe? È il fondatore del tempio Senpò. Mi chiedo quanti anni abbia. Si trova dentro una stretta grotta non lontano da qui. Shinobi dell'erede divino. Sì? Questa strada non è quella di chi vuole recidere i vincoli dell'immortalità. Non cerco di imporvi la mia opinione. Se vuoi restituire il retaggio del drago forse dovresti cercare il sommo sacerdote Senpò. Ci penserò. Ah! Bene andiamo a fare qualcosa. Shinobi dell'erede se vuoi restituire il retaggio del drago il reverente Ok Adesso ci trasportiamo e ci salutiamo così il prossimo episodio andiamo ancora avanti dopo questo episodio è stato di quest però almeno ve lo fate vedere abbiamo visto come andare avanti come terminare alcune dai sono cose che a me premono farvi vedere il 100% e anche questo quindi insomma e così riposa viaggia sarà qua dopo che sia no? Vabbè comunque ci aggiorniamo alle prossime episodi ragazzi come al solito io vi vi tolto le salule anche come se vi piace essere lì appunto vado a sapere cosa ne pensate e per il momento vi do un saluto ciò ci va ciao ciao